Bene ragazzi bentornati in questo nuovo video, oggi siamo qui con la Lisa e la Ceci Ciao ragazzi! Ciao! E oggi siamo qui con gli Skifidol Fluffy Slime Blitz! 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 Cioè hanno il triplo delle perle e un mare infinito di glitter! Di glitter! E abbiamo dei gusti veramente, veramente incredibili Direi che possiamo mischiare questi fluffy Ok Lisa adesso questo qua Sarà il tuo slime Metiamo questo qua Ok Ok Vediamo che gusto è Prova a sentire la profumazione Dicci, dicci, dicci cosa senti Sembra mare Mare! Mare, profumo di mare Mi sento anche da qua Ma mare? Cosa? E' un profumo tipo di? acqua salata? no! acqua salata davvero! vediamo! sentiamo! acqua marina! acqua marina! grande Lisa! brava Lisa, ti è già da molto molto vicina! grande! vera mare alla fine! bravissima! vuoi fare un tuffo Lisa? ti vuoi tuffare? è troppo piccola! eh infatti! bello però! mi piace molto! sono veramente tanti tanti glitter e soprattutto il triplo delle ferle! si! come potete vedere! queste cose mi facciano con lana! con le perle! tocca al ceci! tocca a me? si! vai prendilo te questo Lisa! ok! vediamo! quello più facile grazie! ok! di sicuro! ok! questo qua è quello della ceci di slime che dovrai indovinare! apri! chiudiamo! arancione ma dai! vediamo! oh mamma mia! allora! sa di! sa di! esatto! sa di! un po' di mandarino! un po' d'arancia! cosa fai? e un po' di ananas! è un misto! la sicilia! esatto! sa di sicilia! sa di sicilia! sa di sicilia! non proprio! allora! sa di! direi! succo d'aranas! succo d'aranas! tipo! succo d'aranas! oppure succo d'arancia! succo acce! ecco! questo! succo acce! carota! ci sono andate un po' vicino però è il tropical! eh ci piace! è il tropical e acce! comunque sono cose tropicali! sono cose tropicali! buono! buono! molto buono! si! 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 facciamolo vedere! dite chi indovinerà! ma! vedremo! chi è luca! ma! ma! che colorito! bello! che colorito! aspetta! 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 ho sentito! un profumo! un profumo! è buono! è cioccolato! per forza! dici! ma! non so! non so! caro mio! cioccolato fondente! vediamo che cos'era! cioccolato! cioccolato! brownie! cioccolato brownie! cioccolato brownie! cioccolato marrone! esatto! cioccolato fondente! bello! ah! novinato! novinato! giusto! bravo luca! ottimo lavoro direi! comunque le profumazioni sono attinenti! chiudi gli occhi! questo qua ha il gusto di lisa! che andrà a usare lisa! vediamo un po'! vai lisina! per aprire pure gli occhi! mare profumo! no! non so se è mare! che dici lisa! eh? di! profumo di! 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 di sicuro sarà! o vaniglia! si! o! cos'è che è bianco! puoi mischiare anche i gusti e vaniglia e! cos'è che è bianco lisa! nella realtà! panna! esatto! brava lisa! proprio una panna! buona una panna! sarebbe anche un altro gusto! panna e vaniglia! panna e vaniglia! no no! in realtà è panna e fragola! ora è il mio turno mi sa ragazzi! si! vai tu in cibo! facciamo questo qua! giuro che è un spio! guardate bene! si ho guardato bene! ecco qua! dov'è? è qua! ah si! mmm verde! si sente da qua l'odore? mamma mia! è fortissimo l'odore! è proprio forte! si ma è buonissimo eh! mentolo! aspetta! aspetta! il colorito ricorda comunque il profumo! è menta! non è menta! possiamo assicurare che non è menta! eh davvero? se non è menta cosa sarai? di verde di solito cos'è che c'è di verde? no non è tropicale! tarzan! gusto tarzan! aspetta! dai! cos'è che è verde? la menta! le scimmie! le scimmie sono verdi! aspetta! no aspetta! dai! ma è un altro posto simile al tropicale! aspetta! 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 as sentito sembrava menta davvero ragazzi veramente aumenta se voi l'odorate sembra davvero menta caspita non pensavo che nella giungla ci fossero anche le menti tocca a me adesso questo è per luca a lui piace molto questo è a luca vediamo se indovina luca aspetta forse ho capito cos'è mettiamo un po la chi l'anguria l'anguria bravo luca in un colpo è grande campione del mondo vediamo anche se viene un po raffreddato si sente vero si sente comunque ragazzi la profumazione è così attinente che veramente si indovina subito si si indovina subito ma a parte quello della mia burla tocca alla lisa questo qua è un gusto che piace molto alla lisa a noi familiari purtroppo quindi avvare già in tweet ci sento un sacco la big bubble la big bubble vediamo buono big bubble si sente che è chewing gum big bubble si sente che sono chicche comunque eh chewing gum chicche come americane oppure in spagnolo come si sente chicche 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 tocca alla chicche allora adesso ceci devi chiudere gli occhi bene si ecco qua questo qua il gusto della ceci che buono fragola 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 seria ma anche un po' da solone no aspetta aspetta ho capito è un gusto molto molto tropicale e si chiama ananas secondo me brava è proprio l'anno ha indovinato dì 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 pineapple cake ah aspettate passate mi la penna al volo I have a pen I have a apple apple pen ma è pineapple esatto pineapple pen ma è la pelle I have apple I have a ceci I have a Luca I have a Lisa I have Lisa ceci Luca bella questo va bene ho piccato la mano contro il muro no ma come hai fatto eh ce l'ho vicino la prossima volta è venite qua no no questo qua sarebbe giusto che lo faremo Luca si vediamo non mi aspetterà vai Lisa tieni vediamo un po' qua si sente e che faccia dai Luca è un cartone famosissimo che a me piace che a lei piace anche a me piace ghiaccio di acqua di acqua si quindi fai la traduzione magari in inglese in inglese eh esatto grande Luca allora hai visto che ghiaccio ice frozen esatto giusto frozen il cartone ice ghiaccio esatto bravo ma è davvero questo? davvero veramente ice frozen grande ice frozen giusto adesso che abbiamo indovinato tutte le profumazioni si siamo stati bravi eh direi di fare la prova slime ceci mi dica sei così è troppo bello che storia sembra che ti si appiccica la mano ma invece non ti si appiccica niente guardate sentite fanno un rumore eh che storia no ma pieno di belle ragazzi veramente è pienissimo ma davvero è il triplo è il triplo vero guarda quante ah che storia non sto ancora sto formando bene wow tra l'allero ah vediamo se si è lunga buonissimo giungla io ho in mano la giungla è tutta mia la giungla è tutta verde avete visto quanto è grande la giungla eh qua ci sono tutti gli animaletti caga un oggio si sta formando ragazzi si sta formando una bocca guardate oh la bocca gli occhi guardate che belli occhiali che ho gli occhiali che bello il mio braccialetto giungla è bello è originale guarda che fai ho fatto una galassia wow la faremo dopo la galassia i colori di questi slime sono molto molto vivaci si è florescenti quasi evidenziatore e sono pieni di glitter cioè si vedono proprio eh mi farei un abito io con questo un abito questo è certo perchè non facciamo la treccia dai dai una bella treccia ci sta ottimo ci sta cominciamo a fare la treccia ragazzi si cominciamo quindi io devo attaccarli tu tieni in mezzo così io faccio la treccia va bene eh si allora cominciamo facciamo così guardate direttamente così dico che è molto più easy 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 wow che storia sembra un marshmallow è vero il marshmallow guardate wow è vero un marshmallow che storia gigantesco mamma che bontà che bontà delle bontà adesso me lo mangio ci allunga guardate che storia qua si rimpicciolisce sopra si rimpicciolisce sopra si rimpicciolisce così facciamo un super marshmallow bellissimo che cade cade lì cade lì cade lì dove dove cade cade ci penso io ecco ecco abbiamo fatto la decorazione possiamo appendere bellissimo ragazzi proviamoci bellissimo se non stanno anche bene questi tre colori insieme è vero abbiamo azzeccato molto bello oh 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 bello povero slime fungible quante perle già un sacco bene ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto come al solito un bel pollicione in su si mi raccomando commentate qua sotto con altri video che potremo fare come noi qua in famiglia e mi raccomando iscrivetevi ai nostri instagram che troverete qua sotto in descrizione dove c'è lucasgmweb il mio e quello della ceci ceci mia fashion official boom li trovate qua sotto in descrizione e lisa poi cos'è che si deve iscrivere? a tube music esatto che bello braccialetto ma che braccialetto vedi scusa ma no è la mia pelle Luca non vedi no ragazzi ci vediamo in un altro video eee eee ciao belli eee eee